Ok, rieccoci on the road. Ciao Francine, com'è? Ciao Sti, tutto a posto, tutto a posto. Sono pronto per il master. Bello fresco, ti vedo. Ti vedo troppo fresco per i miei gusti. Infatti, devo lavorare di più. Troppo poco lavoro ti stiamo dando. Devo lavorare di più. E il prossimo evento quando ce l'hai? Parte pratica, eccetera. Allora, c'ho una parte pratica mercoledì, il master venerdì e il weekend a Padova questo fine settimana. Tu dovevi, vedi, dovevi fare un lavoro normale. Che cazzo te l'ha fatto fare, no? A me non è piaciuto fare un lavoro normale, devo essere particolare, devo farvi vedere. Devo essere quell'eccezione. Abbiamo due video in rapida successione. Questo è un video, non è un video marchetto. Dici, cazzo, non è un video perché? A me piace parlare dei prodotti per il quale ho sputato sangue. Cazzo, quel video là. Allora, vai. Allora, perché sostanzialmente io letteralmente dovevo aver consigliato. Allora, aspetta. Stavo dicendo, quel videocorso mi ha distrutto la vita, ho sprecato un sacco di mesi per scriverlo, ma soprattutto le informazioni che ci sono dentro, parlo dall'ombrico a Babyplay Lover, mi sono costate anni di fatiche, anni di sudore. La gente vede e dice, ah, ah, il prezzo lancio 1000 euro, poi 1499 per un videocorso di 15 ore. Quel videocorso c'è dentro l'anima nostra. Ok, quindi tu mi hai detto, voglio parlare del cambiamento che hanno avuto i studenti. Hai tanti studenti che l'hanno preso? Sì, ho avuto molti studenti che l'hanno preso e devo dire che sono tutti rimasti come bene soddisfatti, perché dici, vabbè... Aspetta, aspetta, aspetta. Sono partiti però dalla coaching. Da cosa sono partiti loro, scusa? Sono partiti in genere alcuni dalla coaching, altri hanno direttamente acquistato l'ombrico Babyplay Lover. Quindi ho potuto vedere sia la realtà di chi già aveva un minimo di esperienza sia da chi partiva da zero. Dammi il feedback. Allora, il feedback di chi partiva dalla coaching è stato quella spinta in più. Quel, ok, lo vado a vedere, ho Steve e Kristen sempre con me che mi danno la motivazione, che mi dicono le frasi, che mi dicono cosa fare sia di giorno che di notte. In più, con il bonus anche in chat. Cioè, quindi dovevo veramente completi. Ogni volta che avevano un dubbio, andavo a guardare il video. Guardavano il video, ok, topic giorno 1, giorno. Ok, notte, non mi ricordavo del discorso del lucco, andavo a guardare i video di Christian. C'è stato veramente quel supporto che loro hanno sempre con loro, che li rende anche più tranquilli quando vanno a fare serate. Cioè, c'è un mio studente che prima di uscire, quello che fa è guardare il sito delle serate, sulle frasi d'apertura e sulla conversazione. Eh sì, ma perché molti pensano e dicono, vabbè, ma la naturalezza. Sì, naturalezza ci mancherebbe altro, ma essere preparati su un qualcosa, avere quei due pezzi di canovaccio, ti fa stare molto più tranquillo mentalmente. Io dico sempre che la mentalità, l'autostima, l'energia, è parte integrante ed è prima delle frasi. Per questo io ho inserito, adesso non mi ricordo, sono i primi 3-4 moduli di 12. Sì, i primi 3-4 moduli sono tutti sulla mentalità. Ma perché per forza? Ho spiegato, ho tolto via tutte le pippe mentali che un uomo medio ha, in maniera approfondita, glielo sono scaraventate via e poi ho installato nuovi file, perché è questo che serve. Ma quindi tutte le persone che l'han comprato sono persone che stanno facendo pratica dal vivo? Sì, sono persone che comunque hanno iniziato da zero, non sapendo esattamente come fare. e poi ne ho detto, guarda, ok, ora ho le conoscenze, Steve e Crystal mi hanno spinto, letteralmente, perché hanno distrutto ogni mio timore, ogni mia possibile domanda, possibili dubbi che potevo farmi sull'andata di approcciare, ogni mia pippa mentale. E ora vanno. Vanno ancora con metodi crezzi perché manca ancora la raffinatezza, manca ancora l'esperienza. Però vanno. Ci sono partiti da non partire completamente e quindi essere bloccati a partire un minimo. Ma questo, sia studenti che partiamo da zero. C'è avuto, in ultimo master c'era uno studente che aveva preso il videocorso prima del master. Ha detto, guarda, Fra, io partendo da zero, avendo visato tutto il videocorso, ho iniziato a fare qualcosa per conto mio. È normale che poi qualcosa per conto mio è da aggiustare, è da modificare, è da rivedere. Ma già sono partito. Se tu parti da zero, dall'ombrico di Playlover, dopo che non sei niente, è manna. Affiancata chiaramente da un corso del vivo, fa tanta roba. Secondo me ti dico, da sola, se uno parte da zero, sì, può essere una spinta, sì. È la spintarella per iniziare il tuo percorso. Sì, sì. E la mentele? Io voglio sapere anche la mentele. Sì, che è troppo corto, doveva... Cioè, avete visto troppa roba, ragazzi, cioè le persone... È troppo corto? No, ci avete visto troppa roba. Cioè, la gente riguarda... Cioè, devo farti la consulenza con te, guarda, ti faccio il domande, ma ogni cosa l'ho già vista, cioè io so tutto. Eh, questa qua... Sì, sì. Il mio terrore è quello di dare troppo voce alle persone, anche nei video giornalieri finisco poi per fare otto-nove minuti di video. Altro? No, comunque il videocorso l'ho visto, è pienamente pieno di roba dalla Z, va a spiegare tutto dalla Z. La mente non è estremamente, non ne ho mai sentito, nessuno deve essere lamentato. Chiunque... Uno te lo dico, ti piace, potevo tenermela per me, non me la tengo per me. uno, questo qua è abbastanza fuori di testa, voleva appunto diventare un dio con una coach in bronzo, compra il videocorso e dice che, eh, ma dice, sono tu, sono molte informazioni e io le prendo dai videogiornalieri, le cose, i videogiornalieri, eccetera. ma in realtà alcune, chiaramente è Steve che fa il videogiornalieri, è Steve che tiene il videocorso, è normale che l'impronte possono essere magari simili a quelle dei video, però nel videocorso si parla in maniera molto approfondita. No, a qualcuno mi ha detto la menta sul prezzo, mi ha detto, eh, ma il prezzo è troppo alto. Il corso che ho fatto io, guarda, cioè tu stai comunque affidando all'esperienza di persone che sono 30 anni che sbagliano. cioè quindi quello che tu invece di imparare in 30 anni lo impari in 15 ore, quindi immagina anche i primi appuntamenti sbagliati che farai, le ragazze che ti brucerai, i primi appuntamenti dove non succederanno mai niente, ragazze per strada, quindi nel livello di prendi il treno, vai fino in centro, prendi la metro, stai là, prendi la bere, il parcheggio, cioè se tu alla fine sommi tutto quello, ma che cosa sono quei mille euro? Sono niente, quei mille e cinque, sono niente. Io dico sempre, spesso molti mi fanno la domanda, è un progetto, ho paura però del giudizio altrui, ma un progetto che non è un progetto, voglio costruire, voglio fare un'azienda, voglio un panettiere, bene, ho paura del giudizio altrui, ok, se tu hai paura del giudizio altrui e ti fai fermare, significa che quel sogno che hai non è abbastanza forte e che non sei destinato ad aprirti quella roba là. Se io do come valore la mia persona euro, cioè significa che io non voglio migliorare veramente. Io ho persone, perché ho letto il servizio cliente che era gli screen di gente, ce n'è uno veramente marcio, che tempo fa scrisse al servizio cliente e il servizio cliente gli disse, vabbè, ho compreso una consulenza perché continuava, ho compreso una consulenza oppure devi rimanere così. E lui scrive e fa, no, no, preferisco rimanere così che spendere solo di per me stesso. Cioè, è scioccante. secondo me ci sono persone che vogliono veramente migliorare e quindi non si accontentano di un master ma ne fanno 3-4 perché non è sempre voglia di migliorare. Dipende tutto dal valore che tu ti dai. Se tu ti dai un valore di 5 euro è normale che non vuoi spendere su te stesso. Se tu dici, guarda, io voglio arrivare al top invece di metterci 40 anni, cioè io voglio arrivare al top a 20 anni, 30 anni. Io avrei pagato oro per far sì che la mia formazione non durasse 10 anni ma durasse come te due anni perché tutto quello che hai imparato in due anni da solo l'avresti imparato con costanza se l'avresti imparato in, secondo me, minimo, minimo il triplo del tempo. Sì, ma sicuramente mi hai risolto 30 anni magari con la conoscenza dell'esperienza che ho adesso ma è quello che risparmi, cioè... Com'è? Quanti anni hai? 22. Tanta roba. A 20 anni praticamente hai iniziato a formarti, ti sei formato per due anni. Quanto è speso per la tua formazione in questo mondo? Più o meno? Più di 30.000, 25.000. Madonna! Cioè, 25.000? Sì, sì, sì. Tra libri, corsi, videocorsi. No, no, no. Parlo solo con Play Lover. Cioè, la tua formazione con noi... Sono con Play Lover 12.000. Cioè, capisci. Noi adesso ad ottobre come sai andiamo a fare il mastermind con Cree e mi ha speso 5.000. A gennaio dell'anno scorso eravamo a fare l'altro corso di un giorno e mezzo e mi ha speso 25.000. Cioè, è stato tutto poi in come gestisci il budget che hai e dove vuoi arrivare tra 5 e 5.000. esatto. Alla fine io prendevo 600 euro al mese. Non è che prendevo. Dice, cazzo, avessi preso 15.000 euro al mese e dici, vabbè, che cosa saranno mai. Se io prendevo 600 euro al mese, non tutti i mesi, un mese sì, quattro mesi no, però ho deciso, ok, quei soldi io reinvestivo su me stesso. Ma avevi soldi da parte? No, pian piano, lavorando, 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 mettevo da parte, mettevo da parte, mettevo da parte, appena arrivavo un attimino ad avere quel minimo di fondi, bam, partiamo. Fattesco. Ti meriti tutto quello che hai e quello che sei adesso. Te lo meriti tutto. Grande, Franci, grazie mille per questo e ti mando un abbraccio, ci aggiorniamo. Dai, è stato un piacere. Ciao.